Musica Mercoledì 27 gennaio, giorno della memoria, giorno che anche noi abbiamo deciso di ricordare qui in studio con un'importante testimonianza. Vi do il benvenuto e do il benvenuto naturalmente anche alla nostra Sara Bellini che ci racconterà tutto con la sua ospite stasera. Grazie Gianfranco, esattamente io ho il piacere di avere ospite Silvana Calvo, autrice di diversi articoli proprio sul nazismo e l'antisemitismo ed è l'autrice anche di due libri. 1938, anno infame, antisemitismo e profughi nella stampa ticinese e ha un passo dalla salvezza, la politica svizzera di respingimento degli ebrei durante le persecuzioni 1933-1945. E allora benvenuta signora Calvo, vorrei chiederle innanzitutto cosa l'ha spinta ad affrontare nei suoi libri una tematica tanto tragica e complessa. Buonasera, direi che le motivazioni sono sempre più di una per fare una cosa. Diciamo la prima spinta è venuta dalla lettura dei libri di Primo Levi perché mi hanno mostrato e mi hanno anche un po' spaventato nel vedere cosa c'è in fondo al baratro di atteggiamenti di razzismo, di intolleranza, eccetera. Il secondo motivo è la mia passione per la storia, per la ricerca che mi ha portato a voler indagare un po' sulla realtà svizzera di quel periodo. Ecco, lei tra l'altro è di Locarno, ecco, come si fa a scegliere le parole, diciamo così, le parole giuste per parlare di argomenti simili? Come ha dovuto lavorare su se stessa? Beh, anche qui devo dire che bisogna vedere Primo Levi. Primo Levi ci ha insegnato che per parlare di queste cose non si deve gridare, si deve invece riflettere, far riflettere il lettore, non dargli dei giudizi delle cose prefabbricate, ma spingerlo a porsi delle domande, a porre delle domande alle quali cercare anche lui stesso delle risposte, dargli tanti elementi più che possiamo perché ne possa trovare, che magari non possano aiutare, però non dargli una cosa preconfezionata perché non va bene. Allora, se d'accordo, caro Gianfranco, tra un attimo entreremo proprio nel merito, ma io so che oggi parte una nuova rubrica. E' proprio così Sara, questa sera parte una nuova rubrica che realizziamo con la SUPSI, una rubrica che di settimana in settimana ci farà scoprire tante professioni. Quindi, come si dice, impara l'arte. Arte è dunque intesa nell'accezione latina di pratica, nel senso di abilità nello svolgere un'attività produttiva o ancora nella capacità di fare armonicamente e in maniera adatta determinati lavori. e a spiegarci quanto sia importante il lavoro di docente, sono venuti a trovarci, che vi presento subito. E diamo il benvenuto a Chiara Maggini, docente di scuola elementare. Ciao, benvenuta. Buonasera a te. Buonasera. E benvenuto a Mario Bottinelli, docente di scuola media, di educazione visiva e arti plastiche e formatore becelor del DFA. Ricordiamo, DFA, Dipartimento Formazione e Apprendimento. E' corretto? E' corretto. Ecco, buonasera e benvenute a tutte e due. Chiara, diciamo subito che non sei una docente qualsiasi, ma mi hanno detto che sei maestra di una scuola elementare in una pentaclasse. Quindi se non ho capito male, dalla prima alla quinta, tutti insieme. Tutti, ce l'abbiamo tutti. Un'esperienza particolare, anche perché essendo il mio secondo anno di insegnamento, sono partita l'anno scorso proprio, diciamo, col botto, insomma. Un'esperienza che arricchisce molto, perché hai la possibilità di mettere subito in campo tutto quello che hai appreso durante la formazione. Quindi, secondo me, è un bel trampolino di lancio, questo sicuramente sì. Decisamente. Mario, invece tu hai terminato lo scorso anno il Master SUPSI e insegna le scuole medie. Dove? A Massagno. E come è iniziata la tua formazione per diventare poi docente di scuole medie? Io ho delle esperienze diversificate, fu il mio primo lavoro qualche anno fa e poi dopo mi sono occupato di arte, con una ricerca personale nel campo dell'arte contemporanea. Mi sono occupato di pubblicità e comunicazione e poi ho pensato che la cosa che veramente mi sarebbe piaciuta mettere più a fuoco era proprio questa dell'insegnamento, quindi il rapporto, come si dice, con i soggetti in formazione, capendo poi che il soggetto in formazione non è un'entità anagrafica, ma è l'essere umano stesso, in un'ottica di formazione continua e sempre questa dinamica che poi corrisponde alla vita stessa e che vuol dire tenersi sempre in movimento, agili nella mente e nel corpo e quindi ecco questo è stato un po' il mio percorso. Invece Chiara, come si diventa docente di scuola elementare, il tuo percorso qual è stato? Ricordiamo che tu arrivi alla SUPSI direttamente dalla maturità. Allora, quello che è stato il mio percorso prima del DFA, scuola cantonale di commercio, come pure tanti altri dal liceo insomma o da esperienze un po' variegate. Dopodiché, è chiaro, sì, tutta la formazione che prevede quindi il piano di studi, i tre anni di studio presso il DFA e una formazione particolare, diciamo, piena e anche ricca di varie materie, quelle che poi potrai utilizzare sul campo, proprio quando, durante le pratiche, secondo me è il momento proprio in cui tu puoi veramente capire se è questo il tuo mestiere, mettendoli proprio in relazione con quelli che sono gli allievi. L'hai capito subito che era il tuo? Sinceramente sì, dalla prima pratica mi sono trovata talmente bene, ma anche in quello che è proprio la relazione che si instaura con gli allievi, è quella, la cosa più particolare che trovo, perché ovviamente, come ha ben detto, non sono delle macchine, hai a che fare con degli esseri umani, quindi è quello l'importante secondo me. Invece Mario, se posso chiedere, cosa hai imparato seguendo, insomma, il master alla SUPSI? Cioè, cosa hai imparato di nuovo rispetto a quello che avevi imparato precedentemente? Tenzo? Sì, direi che possiamo dividerlo nei due anni. Il primo anno è una messa a fuoco più sulla disciplina e quindi sulla didattica, quella che si chiama la trasposizione, cioè come far passare il tuo sapere, il tuo anche saper fare, soprattutto nelle nostre materie, abbiamo a che fare con un sapere tecnico e anche formale, quindi trasporlo in un piano didattico che sia efficace e quindi finalizzato all'apprendimento. Mentre il secondo anno direi che potrebbe essere più connotato nei termini di un inserimento all'interno del sistema scuola e quindi il professionista docente che diventa più capace, quindi amplia le sue competenze anche in rapporto alle altre esigenze che sono comunicative, il rapporto per esempio con i genitori, il rapporto con gli altri membri della scuola, i colleghi e quindi dall'aula della classe si dice nell'intero sistema scolastico. Tu, se non ho capito male, sei anche formatore Becceller, che cosa significa per te formare altri docenti? È interessante perché si può vedere come appunto la didattica deve essere trasposta a un altro adulto che naturalmente nel caso per esempio della scuola elementare non si tratta di specialisti, o almeno non necessariamente, perché sono maestri che devono comunque per esempio nell'educazione delle arti plastiche apprendere delle modalità tecniche per poter interagire sul piano appunto delle nostre discipline con i bambini e quindi è più diciamo un rapporto di culturale vorrei dire, quindi una presa di coscienza dell'importanza delle discipline visive per la cultura, quindi per la crescita armonica dell'individuo. Allora, noi in questa rubrica cerchiamo di fornire a telespettatori, insomma ai giovani soprattutto che hanno interesse, magari decideranno di fare come voi, di insomma studiare per diventare docenti e di dare qualche informazione. Ecco, magari Chiara, diciamo indicativamente quali sono le materie principali che hai studiato? Iniziamo con te. Beh, chiaramente quelle classiche della scuola elementare, insomma dalla matematica all'italiano alle scienze, insomma quelle che anche da parte dei genitori e delle famiglie vengono viste come il ruolo portante della scuola. Chiaro, bisogna capire che non è più l'insegnamento di una volta, insomma adesso si punta tanto sul cercare di come far apprendere e di far apprendere l'allievo quasi in modo che il docente debba soltanto mediare insomma quello che è l'apprendimento, per dare più importanza e per permettere all'allievo anche un miglior apprendimento più efficace. Dunque queste sicuramente le principali, dopodiché anche molto utili quelle che sono le materie speciali, perché come docenti veniamo formati anche, comunque noi sappiamo che ci sono i docenti speciali per magari educazione musicale, per attività grafico-pittorica e quant'altro, soltanto che noi nel nostro piano abbiamo anche queste materie da svolgere, esattamente come il collega diceva. Ecco, chiedo anche a te, le materie principali che... Beh, senz'altro le didattiche disciplinari, dove un docente in formazione mette a fuoco proprio direi fino al dettaglio, mette a registro quindi la sua capacità e le sue competenze disciplinari e poi tutte le altre materie che possono essere pedagogia generale, psicologia evolutiva, filosofia dell'educazione, molto importante anche valutazione per esempio, perché chiaramente nell'essere docenti dobbiamo anche avere una competenza dal punto di vista della valutazione. La pratica è molto importante, no? Voi durante il vostro periodo di formazione quante ne avete fatta, Chiara? Allora, primo anno di formazione, l'anno intero quindi un po' altalenante insomma tra quello che è il DFA, lo studia il DFA e la pratica, lungo tutto l'anno nella medesima classe, dopodiché negli anni successivi ci sono state in secondo anno altre due pratiche, nell'ultimo anno l'ultima insomma, l'ultimo momento anche il più diciamo così ricco in quanto sei proprio proiettato e inserito nella classe e gli allievi ti vedono quasi proprio come una seconda figura di riferimento, quindi più lunga e hai anche la possibilità di metterti in gioco proprio perché magari il titolare si sposta, esce dall'aula e sei tu che devi gestire, quindi quasi come se fossi sul campo vero. E per diventare appunto docenti di scuole medie invece? Allora, ci sono delle casistiche un po' differenti, se diciamo c'è una disponibilità in termini di ore, si può anche avere la formula dell'incarico limitato, per cui il docente in formazione già ha un metà tempo e quindi può già insegnare come docente responsabile, il che vuol dire che deve anche essere in grado di far fronte a tutte le incombenze, per esempio appunto la valutazione, i giudizi eccetera eccetera. E quindi io ho incominciato subito con l'incarico limitato, quindi metà tempo, tutti i due anni della mia formazione. Oggi siete entrambi docenti, qual è l'aspetto del vostro mestiere che più vi piace? Chiara? Per me è il contatto con gli allievi, il fatto di poterli vedere veramente evolvere durante l'anno, nel mio caso su più anni scolastici e il fatto di sentire proprio di avere una tua classe e la possibilità di creare, diciamo così, di modellare queste menti e quelle che saranno le future generazioni. Quindi un oro altamente di responsabilità, evidentemente. Mario? Sì, certo, questo è sicuramente uno dei momenti più belli, però è anche molto bello cinque minuti prima e cinque minuti dopo, perché cinque minuti prima stai preparando il tutto e quindi è come se stessi predisponendoti a un grande evento e poi cinque minuti dopo perché nel nostro caso abbiamo tutti gli elaborati e quindi è molto bello per me vedere quello che nelle due ore di lezione hanno fatto i miei allievi. Mi dà grande soddisfazione. Siamo quasi in conclusione, volevo chiedere ancora una cosa chiara. Tu sei stata sui banchi di scuola fino all'altro giorno, poco tempo fa. Oggi, l'abbiamo detto, sei insegnante, evolve velocemente la scuola. Cioè, rispetto a poco tempo fa, ad oggi che tu insegni, è cambiato qualcosa? Quella che è stata la mia esperienza, sì. Cioè, cambia proprio anche la tipologia di allievo con cui hai a che fare le esperienze personali che veramente influiscono molto su quello che è il tuo lavoro con gli allievi, sicuramente sì. Quindi i bambini di oggi sono differenti rispetto a pensare magari io, alla loro età, era un'altra tipologia di insegnamento. Grazie, grazie Chiara, grazie Mario. Impara l'arte, torna settimana alla prossima con un'altra professione. Grazie mille. Noi continuiamo a sentire Sara e la sua ospite, ma sentiamo insieme. Grazie Gianfranco, molto interessante. E allora, signora Calvo, torniamo al giorno della memoria. Quanto è importante il ricordare o il non dimenticare? Beh, il ricordare non dovrebbe essere solo una memoria, un, come dire, un, una riproduzione, per esempio, di immagini. Per esempio, per il giorno della memoria spesso se si apre qualsiasi, guarda qualsiasi televisione, si trovano le solite immagini con i soliti mucchi di cadaveri e un po' diventa quasi un po' un culto dell'orrore. Dovrebbe essere una sorta di monito, insomma. Sì, però per quello che mi riguarda mi sembra che la memoria dovrebbe essere piuttosto una questione di interiorizzazione, di cercare di capire perché certe cose sono capitate, no? Ecco, guardi, lei sta dicendo una cosa molto importante perché nel mondo ci sono decine e decine di guerre, i popoli ancora oggi vengono oppressi e allora lei crede che quanto, insomma, si è visto nel 39 e poi ecco nel 45 possa accadere di nuovo? Forse è questo l'importante anche di ricordare? Sì, sì, direi che, beh, non siamo indovini e non possiamo saperlo, forse per fortuna, ma è chiaro che pericoli ci sono perché certi meccanismi sono sempre ancora in atto, il meccanismo dell'intolleranza, il meccanismo del rigettare l'altro, del ritenere l'altro colpevole di tutti i tuoi guai. La discriminazione in genere. Sì. Le faccio un'altra domanda, visto che abbiamo anche due docenti, ecco, lei crede che questo dovrebbe essere un tema che andrebbe maggiormente attualizzato anche a livello scolastico? Sì, direi che la scuola dovrebbe insegnare la storia nel senso di complessità, cioè per far capire che non si può così tagliare il mondo ingiusto, sbagliato, in buoni, cattivi, cioè la complessità anche delle cose, per esempio, io mi sono occupata moltissimo di quello che è stato la Svizzera, allora c'è sempre qualcuno che mi diceva, ma allora gli svizzeri come erano, no? Era complesso, cioè le cose erano complesse, anche riguardo per esempio ai profughi che arrivavano, c'era chi voleva veramente che si chiudessero le porte, che per carità era pericolosissimo lasciare entrare i profughi, c'era chi lo faceva per paura, chi per egoismo semplicemente, chi per antisemitismo anche, no? Però c'era c'era in Svizzera anche tantissime persone che, non so, nelle parrocchie, nelle associazioni, in gruppi spontanei, raccoglievano vestiti per i profughi, facevano delle attività per raccogliere dei soldi, per aiutarli, addirittura c'era gente che ha colto profughi in casa propria, per esempio, se posso citare le fantastiche ragazzine di cui parlo nel mio libro, il 7 di settembre del 1942, una classe di ragazzine di 14 anni, dopo aver letto un articolo di un rispingimento di profughi nel giura, ha mandato addirittura al Consiglio federale una lettera che diceva non potete ributtare oltre frontiera questi esseri infreddoliti e tremanti, perché se li mandate via poi verranno uccisi e questo ci fa anche capire che allora la gente sapeva. Eh certo, sapeva ed è giusto, tra l'altro, tornare a parlarne. Assolutamente sì. Io ringrazio Silvana Calvo che ha voluto essere con noi oggi, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a signora Calvo anche da parte mia, grazie Sara, grazie ancora a Mario e Chiara. Noi per questa sera terminiamo davvero qui, vi ringrazio per averci seguito e vi do l'appuntamento a domani con una nuova puntata, tra gli altri parleremo di musica, bellezza e sport. Ciao, buona serata. Ciao, buona serata.